Bonus per la riduzione in bolletta per le categorie socialmente deboli e le famiglie numerose. Nuove Acque ha infatti rinnovato le agevolazioni tariffarie sociali. Si sta parlando dei bonus idrino nazionale e le agevolazioni che dà la società come società. Si sta parlando di 426.000 euro che la società mette a disposizione, 326.000 euro attraverso la parte della tariffaria e 100.000 euro, siamo credo l'unica società toscana che mette sulle famiglie numerose, quindi chi ha più di tre figli a carico. Questi 426.000 euro uno può accedere anche venendo semplicemente al nostro sportello con l'Isee. Isee sotto a 20.000 euro per le famiglie numerose, Isee di 8.100 euro per tutti gli altri. Questo però può anche andare per accedere alla piattaforma Sgate attraverso il comune o un CAF, a quel punto accede anche al bonus idrino nazionale, oltre al nostro, e che l'anno scorso sono stati altri 84.000 euro. Si potrà accedere al bando per ottenere i due bonus integrativi sino al 31 luglio 2019. Nel 2018 sono stati erogati oltre 400.000 euro per circa 3.000 utenze. Nuove acqua è erogato complessivamente 426.239 euro. L'importo delle agevolazioni riconosciute per il 2018 ha permesso di assicurare immediatamente un sostegno per gli utenti in difficoltà pari a circa il 50% dell'importo fatturato in bolletta durante lo scorso anno. Sono mille le famiglie aretine che hanno usufruito di questo elemento di attenzione. È un punto importante. In un momento di crisi economica crediamo che sia un elemento da valorizzare. Ci impegneremo perché possa aumentare, ma già è l'1% degli aretini.